Musica Nell'attentato a Dhaka in Bangladesh ha perso la vita anche Simona Monti, sorella del parroco di Santa Lucia di Serino, Don Luca. La 33enne che viveva a Magliano Sabina da tempo si era trasferita a Dhaka per lavoro e proprio con alcuni colleghi sabato sera è andata a cena nel locale Preto di Mila dagli attentatori. La giovane in questi giorni sarebbe tornata a casa in provincia di Roma per trascorrere accanto ai familiari gli ultimi mesi di gravidanza. La notizia della tragedia in poco tempo ha raggiunto un piccolo comune irpino. I cittadini a cominciare dal sindaco si sono stretti attorno al loro giovane parroco che quando la notizia della morte della sorella è stata ufficializzata è partito alla volta di Magliano dove i familiari avevano sentito la giovane poco prima che andasse a cena con i colleghi. Simona lavorava per un'azienda tessile di Viterbo la cui titolare è morta insieme alla 33enne. A Santa Lucia la comunità si è raccolta in preghiera per il suo parroco e la famiglia di Don Luca mentre il sindaco Fenisia Mariconda ha annunciato che prenderà parte ai funerali della giovane donna durante i quali sarà esposto anche il gonfalone del comune. L'amore si può mendicare Noi siamo la Vat 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 e questa sera suoniamo. Suoniamo dove? Dove suoniamo Dino? Allora siamo nel palazzo baronale di Prada Principato Ultra, una struttura che nasce su un antico castello ed è stata trasformata nel 1600 da una famiglia feudale proveniente dalla Repubblica di Ragusa Dubrovnik. Ragusa Dubrovnik, nome difficile da pronunciare. Che epoca le deriva? Allora arrivano praticamente nel 1600 ma l'edificio che vedi nasce nel XII secolo su quello che è come il castello normanno e poi è stato rimodulato e ricostruito a seconda dei gusti dei fiotatari che l'hanno abitato. Questa bellissima manifestazione organizzata dall'associazione La Calendola, giusto? Che cos'è l'associazione? Ci vuol dire qualcosa? È un'associazione che è nata cinque anni fa a Prata, si dedica soprattutto ad eventi culturali e di promozione del territorio. Vicino a noi ci sono una serie di giovani, meno giovani che si sono appassionati al territorio, che lo amano e quindi fanno degli eventi che siano prettamente comunque di promozione, quindi turistici e culturali. È il caso della Vat 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 che questa sera presenterà, come sapete, il primo EP che è stato fatto già un'anteprima, il 29 sul corso Vittorio Emanuele insieme ai Molotov di Irpinia. E questa sera abbiamo l'occasione per presentarla anche ai cittadini di Prata. L'ex ospedale Moscati da anni al centro di polemiche in quanto struttura dismessa con i suoi relativi costi per la regione Campania e mostro di degrado in atto in centro città, diventa anche meta di gite fuori porta per due pregiudicati di Cervinara, rispettivamente di 18 e 20 anni, colti in flagranza di reato a rubare 150 kg di materiale tra ottone e rame. Una denuncia è scattata anche per un giovane avelinese impegnato a fare il palo per i due pregiudicati in azione. L'intervento della volante, guidata dal vicequestore Elio Iannuzzi, è stato sollecitato grazie alla segnalazione al 113 di alcuni cittadini della zona, che avevano segnalato la presenza sospetta di due persone all'interno della struttura di Viale Italia. Gli uomini della volante arrivati sul posto hanno colto sul fatto i ladri di rame intenti a raggiungere un ciclomotore rubato e parcheggiato nelle vicinanze per darsela a gambe levate. Il rame è stato asportato dalla sala di radiologia utilizzando un taglierino, l'area furtiva chiusa in una busta e il ciclomotore sono stati sequestrati. I due sono stati accompagnati negli uffici di via Palatucci per essere giudicati per direttissima gioie mattinata. Allarme furti nella media valle del calore, a farlo scattare due episodi che si sono susseguiti uno dietro l'altro. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il furto nella canonica di Don Paolo, parroco di Venticano. La banda in azione ha forzato il portone della canonica a notte fonda. Una suora che dormiva proprio in una stanza attigua ha avvertito rumori e voci, ma non ha avuto la forza di alzarsi per dare l'allarme. Probabilmente la religiosa è stata narcotizzata dai ladri, che hanno avuto anche il tempo di entrare nella sua stanza per trafugare qualcosa. La suora infatti ha visto la banda muoversi per il locale senza avere la forza di alzarsi dal letto. Alle otto a suo risveglio, la spiacevole scoperta, canonica sottosopra e oggetto di razzie, è la vettura del parroco scomparsa. La sorella ancora stordita, probabilmente dagli effetti a lungo termine della narcotico, non ha potuto far altro che dare l'allarme. Ancora non è possibile quantificare cosa sia stato asportato dalla canonica, troppa confusione anche per un primo bilancio. I militari stanno cercando di ricostruire la vicenda per individuare i membri della banda. L'unica sicurezza è che si tratta di italiani e non di stranieri. Ma questo è solo l'ultimo in ordine di tempo episodio di reato predatorio nella Valle del Calore. Giorni fa infatti ad un imprenditore, sempre di Vinticano, sono stati rubati ben 10.000 euro in contanti. I militari del Comando Provinciale e la Guardia di Finanza di Avellino hanno proceduto alla notifica di 5 inviti a dedurre nei confronti di altrettanti medici di base dell'AS di Avellino, emesse dalla procura regionale della Campania della Corte dei Conti di Napoli. La notifica arriva al termine di una complessa indagine eseguita dai finanzieri della tenenza di Ariano Irpino. L'attività investigativa in materia di tutela alla Spesa Sanitaria Nazionale ha portato alla segnalazione alla Corte dei Conti di condotti arrecanti danno alle finanze pubbliche attraverso la inappropriata prescrizione di farmaci antipertensivi rispetto a quanto stabilito dalle relative schede tecniche dei farmaci. Praticamente i medici finiti nell'inchiesta per ottenere il brevetto di esclusività di un nuovo farmaco hanno unito due medicinali che erano assunti singolarmente per i quali scadeva il brevetto sostenendo che così fosse più efficace, unendo in un'unica pasticca, un antidepressivo e un diuretico asserivano che quel medicinale fosse migliore. In particolare è stato rilevato che i medici nel periodo dal 2009 al 2014 avrebbero prescritto farmaci in combinazione fissa ossia farmaci che hanno ottenuto un nuovo brevetto. Durante le indagini sono state esaminate le prime ricette ossia quelle prescrizioni che hanno dato luogo alla presa in cura del paziente con lo specifico principio attivo. Ciò ha permesso di rilevare che la persona affetta da ipertensione veniva avviata alla cura con il farmaco in combinazione fissa senza essere sottoposta prima ad un periodo di controllo della patologia con la somministrazione di farmaci disgiunti. Il danno contestato è pari a 144.204 euro. Ora i medici hanno 30 giorni di tempo per farsi ascoltare o presentare memorie difensive. commozioni e lacrime ieri a Ciampino all'arrivo del C-130 con a bordo le salme delle nove vittime italiane uccise a Dacca ad attendere le bare avvolte nel tricolore e con i familiari c'era anche il capo dello Stato. In prima fila sulla pista di Ciampino insieme al cappellano militare anche Don Luca Monti, il parroco di Santa Lucia di Serino, fratello di Simona che ha perso la vita insieme ad altri otto connazionali. Ed è stato proprio Don Luca a benedire la salma della sorella a un momento di forte commozione per il giovane parroco che poi ha abbracciato e baciato la bara della giovane donna. Simona, che era il quinto mese di gravidanza, sarebbe dovuta rientrare a casa a Magliano Sabina il giorno prima, il lunedì, dove sarebbe rimasta con i familiari fino alla nascita del bambino. Le famiglie delle nuove vittime della strage erano tutti schierate sul piazzale dell'aeroporto in attesa di accogliere i loro cari un triste rito al quale ha partecipato anche una bambina. All'aeroporto anche Giovanni Boschetti che, a differenza di sua moglie, è riuscito a salvarsi. Le salme, dopo il saluto dei familiari, sono state trasportate all'ospedale Gemelli per le autopsie. Intanto, a Santa Lucia di Serino, il pensiero dei cittadini è rivolto continuamente al loro giovane parroco al quale in questi giorni i conveglie di preghiele non solo hanno fatto sentire la propria vicinanza in attesa che torni in paese. Mentre nel giorno dei funerali della giovane Simona, il sindaco di Santa Lucia di Serino, Fenisia Maricunda e parte degli amministratori saranno presenti con il gonfalone del comune. Questa mattina, 40 dipendenti della GLM Ristorazione SRL di Castellammare di Stabia si sono recati in prefettura per incontrare il proprietario della ditta che si è giudicata al servizio di difezione scolastica nelle scuole di pertinenza del comune di Avellino fino al 2018, il quale ha deciso che fino a quando non riprenderà il servizio non pagherà gli stipendi ai lavoratori che si vedono in questo modo negare ben quattro mensilità. Il responsabile della ditta questa mattina ha disertato il tavolo. La difficoltà maggiore è questa, è quella di non percepire lo stipendio per i prossimi mesi, quindi giugno, luglio, agosto e settembre perché l'azienda, nonostante l'assunzione a tempo indeterminato, ritiene che queste lavoratrici, perché è finita la riflessione scolastica il 30 maggio, ritiene che fino ad ottobre non gli debba alcuna retribuzione. Chiaramente noi non siamo d'accordo, le lavoratrici non sono d'accordo, anche perché parliamo di lavoratrici che sono monoreddito, ragazze madri, c'è una serie di condizioni familiari un po' pure particolari. Si parla di stipendi che oscillano dai 200 ai 450 Euro, quindi non è, voglio dire, non stiamo parlando di stipendi di un certo livello. Cambiano, vivono, queste signore dovrebbero vivere per otto mesi e altri quattro mesi morire di fame, quindi queste le rivendicazioni che oggi purtroppo l'azienda non si è presentata, ha mandato una comunicazione dicendo che non era disponibile per il giorno, già è stata fissata per il prossimo lunedì alle 9.30 in prefettura, la riunione, speriamo che si presenti lunedì. Quello che si respirava questa mattina presso l'ex Iris Bus in Valle Ufida era un clima quasi di festa perché il nuovo patron dello stabilimento, Stefano Del Rosso, proprietario di Industria Italiana Autobus, ha voluto incontrare, giusto dopo cinque anni da quella tragica chiusura dell'azienda il 7 luglio 2011, tutti gli operai per tranquillizzarli ancora di più sulle potenzialità della sua azienda e ripartire con loro per quello che sarà un nuovo inizio e non assolutamente un punto di arrivo. Ma ascoltiamo le parole dell'imprenditore Del Rosso e subito dopo quelle del segretario CISL Irpinia Sannio, Mario Melchionna. Oggi è il 7 luglio, oggi è un incontro con i miei ragazzi di Flumeri, con gli operai, è una festa di famiglia, non c'è nessun incontro ufficiale, ci saranno anche i sindacati e brinderemo anche con loro. Ma oggi è il 7 luglio per chi è di quella fabbrica, chi è di Flumeri sa cosa significa questa data. Il 7 luglio 2011 purtroppo è stata dichiarata una tragedia nell'Irpinia alla chiusura della fabbrica, il 7 luglio 2016 è presente l'insegna e noi riapriremo. Questa è una festa. In molti però si chiedono quando concretamente ripartirà la produzione? Ripartirà prima possibile, non posso farlo oggi perché spetta ad un piano industriale che presenteremo, l'ennesimo piano industriale vero che presenteremo al Mise quindi non posso anticipare nulla però oggi abbiamo in animo di ripartire visto che gli investimenti li facciamo noi e non ci vengono dati chissà quanti soldi a fondo perduto quindi abbiamo in animo di ricominciare il prima possibile. C'è la certezza che l'industria italiana nel più breve tempo possibile costruire autobus in Irpinia e non solo questo. Sicuramente noi siamo fiduciosi che il 7 luglio 2016 possa rappresentare per questa realtà non solo per i lavoratori ma per l'intera Irpinia il ritorno alla normalità perché cinque anni fa la chiusura di quell'azienda ha significato la messa in ginocchio dell'intera economia provinciale non solo Irpinia ma dell'intera Campania. Speriamo che la strada ormai la parte difficile è stata fatta complicata dove il ministero le varie riunioni gli impegni assunti e poi non mantenuti tutto l'impegno che ha messo l'imprenditore Stefano Del Rosso che per quanto ci riguarda abbiamo sempre avuto un'idea che si trattasse di una persona seria di una persona competente e la dimostrazione che la sua caparbietà oggi ha portato diciamo all'apertura se anche parziale di questo stabilimento. Si allarga l'inchiesta sullo scandalo dell'ACS nell'elenco degli indagati per cui sono stati notificati dagli agenti della sua tramobile gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica infatti spunta anche il nome di Sergio Pesta cinquantenne avellinese accusato di corruzione elettorale confermati invece i capi di imputazione per Amedeo Gabrielli amministratore unico dell'ACS indagato per i reati di corruzione e peculato Maria Stingo che dovrà rispondere al reato di corruzione in concorso mentre Barbara Matetik il marito della consigliera comunale di Avellino Carmine Ciccarone e Raffaele Matrazzo dovranno rispondere del reato di peculato in concorso nel comunicato aggiunto dalla questura si sottolinea che si tratta di una parziale chiusura delle attività di indagini l'inchiesta inerente la CSSRL società in house partecipata al comune di Avellino l'azienda città servizi finita nel mirino della procura della repubblica per la gestione del denaro pubblico l'assegnazione di appalti per la manutenzione del verde pubblico e l'affidamento delle aree di parcheggio in città un sistema di corruzione peculato e abusi di ufficio a vario titolo portato avanti secondo gli inquirenti dall'amministratore della società partecipata azioni delittuose commesse in totale disprezzo delle norme di gestione della pubblica amministrazione ed enorme spreco del denaro pubblico un'indagine durata almeno due anni i fatti risalgono al 2011 e che potrebbe riservare altri clamorosi colpi di scena in particolare il coinvolgimento ora approvato del sesto indagato seggio festa per corruzione elettorale potrebbe essere la password per aprire altri scenari il fenomeno del voto di scambio ipotesi di reato che gli inquirenti tengono particolarmente attenzionato gli ultimi accertamenti eseguiti dagli agenti della scuola mobile hanno verificato che il vertice dell'accesso aveva chiesto alla famiglia di Sergio Festa dei voti per l'aspirante candidato al consiglio regionale dell'ultima tornata elettorale in cambio di un'assunzione presso una delle cooperative compiacenti all'azienda città servizi il saccheggio di denaro pubblico come lo definì il procuratore capo Rosario Cantelmo potrebbe presto sfociare anche in un filone di saccheggio di voti per amici candidati della cricca che a secondo gli inquirenti amava soggiornare negli alberghi di lusso il telepass a portata di mano e l'abbigliamento grifato tutto pagato con denaro pubblico secondo gli indizi raccolti dagli investigatori si allarga a dismisura lo scandalo dei furbetti del cartellino all'asle di Avellino nell'ambito dell'inchiesta Bege Malati la polizia ha notificato a ben 33 dipendenti su 230 del presidio di via degli Mbimbo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari coinvolto circa il 10% del personale le persone coinvolte medici infermieri amministrativi e stavolta anche dirigenti dovranno rispondere di accuse che vanno dalla truffa aggravata in concorso fino al falso il provvedimento odierno segna la chiusura delle indagini portate avanti con intercettazioni ambientali ed appostamenti da parte della polizia indagini che hanno consentito di portare alla luce l'odioso fenomeno dell'allontanamento dagli uffici dopo la fittizia registrazione della presenza da parte di singoli o addirittura di gruppi di persone nel marzo scorso furono indagati 21 dipendenti ritenuti infedeli per 9 dei quali è già scattato il licenziamento in tronco altri sono stati sospesi in via cautelativa dal lavoro con decurtazione dello stipendio la commissione disciplinare dell'asl che aveva annunciato nuovi provvedimenti entro il 10 di luglio dovrà ora valutare la posizione di ben altre 12 persone indagate per le quali verosimilmente gli inquirenti al termine dell'inchiesta condotta dalla polizia chiederanno il rinvio a giudizio nell'ultima tranche di indagati si segnala la presenza di dirigenti che a quanto pare non avrebbero adempiuto ai controlli previsti dalla legge e lo scandalo continuo tragedia in Ufantina all'altezza di San Potito a causa di un incidente stradale ha perso la vita a Maria Musto di Montemarano nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto ed un tir la vittima viaggiava a bordo di una Mercedes con il marito ed un'altra donna avevano da poco lasciato l'ospedale Moscati dove si erano sottoposti a radioterapia sull'altra vettura con la quale si è verificato l'impatto frontale due fratelli di Sant'Angelo a Scala diretti in ospedale per far visita ad un parente questi ultimi due come l'autista del mezzo pesante sono rimasti illesi a causare la tragedia secondo una prima ricostruzione un tentativo di sorpasso da parte del marito della 74enne deceduta ricoverato in gravi condizioni l'uomo al volante della Mercedes con guida a destra avrebbe tentato di superare il tir quando improvvisamente si è trovato di fronte l'alfa mito il cui giovane alla guida non ha potuto far nulla per evitare l'impatto sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere contorte e della polizia stradale la 74enne a causa delle gravi ferite riportate è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale mentre il marito è ricoverato in gravi condizioni sembrano non destare particolari preoccupazioni le condizioni dell'altra donna la notizia della tragedia ha immediatamente raggiunto Montemarano il cui sindaco Beniamino Palmieri si è recato subito presso la città ospedaliera un fascino millenario che ha ispirato religiosi e non cantanti e musicisti fede e tradizione hanno illuminato nel tempo palcoscenici di teatro piccoli e grandi schermi al cinema tra i primi fu il mito Amedeo Nazari interprete di un robusto romanzo popolare risalente al periodo fascista La Grande Luce poi venne Mario Merola con tradimento a Montevergine la scena cult della sceneggiata napoletana passano decenni e il fascino di mamma schiavona del santuario richiama ancora una volta la settima arte sono state girate in queste ore alcune scene del film in corso di produzione dal titolo Beleno una storia dedicata al tema delle morti per tumore nella terra dei fuochi la protagonista femminile è l'attrice Luisa Ranieri la regia è di Diego Livares nel cast di Primordine gli interpreti maschili Massimiliano Gallo e Salvatore Esposito alias Jenny Savastano di Gomorra non è difficile immaginare la trama e soprattutto cosa siano andati a fare a Montevergine gli abitanti della terra dei fuochi chiedere una grazia alla Madonna per guarire dalla malattia e guarire la campania a Montevergine sono state girate diverse scene l'arrivo in pullman del pellegrinaggio la Santa Messa con i protagonisti seduti tra i banchi un malore per qualcuno di loro forse dovuto alla chemioterapia grande attesa per l'uscita del film in autunno la distribuzione sarà targata Medusa Montevergine e l'Irpinia Ciac protagoniste Montevergine 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 Montevergine